E bello a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi siamo qui con un video di Fortnite, peraltro con il secondo account Ebbene sì, questo perché ho voluto fare un po' di trolleggiamenti in giro col secondo account per divertirmi un po' in arena Così da non beccare diciamo dei tryharder troppo noiosi E questo perché ragazzi giocare col secondo account è penso sia la cosa più divertente del mondo Perché becchi delle persone in arena veramente, veramente imbarazzanti E ora potete vedere anche voi quello che è successo perché ho trollato tutto il tempo Alla fine ho fatto comunque un game da 21 kill Quindi ho spaccato tutta la lobby e ora andate a vedere insomma cosa ho combinato Però abbiamo di cominciare con il video ragazzi, vi do da subito lasciare un bel pollice inizio a questo video Mi raccomando iscrivetevi al canale e vi ricordo di seguirmi su tutti i miei profili social che trovate qui sotto in descrizione Quindi ragazzi a livelli, adesso vi facciamo una buona visione, non perdiamoci in chiacchiere perché avete da guardare un bel gameplay Quindi ragazzi buona visione I tarzanelli Il Buddha No, 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 no Madonna quanto stozonando in questo momento Ti giuro vorrei veramente urlare Has vaisen fuzen Casen pigeon pasen Vado con un riccio appena nato I don't know why No, Efra Ma non c'ho voglia di perdere tempo qua con Cioè non è che qua C'abbiamo tempo da perdere Allora qua dentro ci sta qualcuno, scommessa? Ah, se c'è uno in casa, vi piace il pisello Se non c'è nessuno in casa, vi piace lo stesso Eh, ho capito la regola Mi spiace, eh vedi? Eh, vi piace lo stesso No, no, no Efra, no Dai Efra, ma è stato un attimo a grattare Tu madre, cioè E mi sparano sempre Allora, non è che c'ho scritto testa di chimica sulla fronte? Fra, sei veramente un player dog shit Fai schifo, ti giuro Fai vomiterà Ah, apri il primer del signore Ma si è messo veramente sottocamperato questo Ma veramente? Cioè raga, ma state scherzando? Ma questo qua che è il blu chi do gu L'ho sfondato c'ha Non muore Non muore Non muore Lui è invincible Lui è fio di p***o Alla man Superman 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 Sommate, fa un po' Bikini, giuro gratis Tra, mi ha rotto il chistai Madonna del Dio Quelli che sparano da distanza chilometrica Veramente devono andare a fare tutti Tutti le pompe Vi giuro, ora vado a fare quello che mi spara a distanza da tre ore Ma no, lo vado a cercare Non me ne frega proprio niente Sei tu? E le tulfi di p***o Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Va bene Sì, Martina Porco Dio Scherzo Scherzo, non manca più perché muori Morirei tra qualche secondo, zio Il tuo destino è stato già scelto Eh, te l'ho detto, vedi? Eh, te l'ho detto, vedi? Arrivo, arrivo, arrivo Non, non, no, fra, no 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 la capisco tutto ne 3 ha arrabbiato il vecino Ma ho visto che hanno buffato Il pump nuovo raga E' vera sta roba Ah che minchia è velocissimo Ma lo stiker però è ennerfato Cioè questo non voglio capire io E mi sa che è ennerfato si perché ho visto che facevo almeno danni io in body Guarda non voglio Farà tutto a posto Te buildi? Si spara più veloce Ragazzoni siamo arrivati alla fine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Come avete visto abbiamo spaccato tutto Con la nostra fantastica vegana Che è sempre bella carica E pronta per distruggere tutti quanti In arena E quindi spero che ovviamente vi sia piaciuto Se dovesse essere così ragazzi Mi raccomando lasciate un bel pollice Se non l'avete ancora fatto E iscrivetevi al canale Noi ovviamente ragazzi ci becchiamo sabato Con un prossimo video fighissimo Che non dovete assolutamente perdervi Alle 14 video fantastico sabato Mi raccomando non perdetevelo Quindi ragazzoni dalla vostra grada miss è tutto Noi ci becchiamo in un prossimo video Bella a tutti ragazzi Grazie